Sempre più spesso, negli ultimi tempi, i meravigliosi paesaggi, le città e i prodotti tipici della Puglia e della Basilicata sono i protagonisti del piccolo e grande schermo. Altamura è proprio una fra queste. Infatti, dopo essere stata la protagonista di programmi come Ulisse e Bekoff, e dopo i numerosi servizi che la riguardano trasmessi sulle tv regionali e nazionali, sarà ancora una volta protagonista assoluta di uno storico programma della tv italiana, Sereno Variabile, condotto da Osvaldo Bevilacqua. Le riprese avranno inizio nella giornata di domani. A breve ulteriori dettagli circa quest'ultima partecipazione televisiva della città pugliese.